Vincenzo, galleggiano tutti? Allora, piano, piano, senza correre. Vincenzo, galleggiano tutti? Lorenzo, veloce da Cosmedori! Ehi, 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 povero dico io dove dovete mettere. Tutti in là su quel porno altra parte. Veloce, dai allora, non devi avere paura dell'acqua, voglio vedere chi ha paura dell'acqua. Andiamo lì, tutti in là. Vabbè, un secondo ce ne andiamo, tanto l'acqua è. Andiamo! Vie calzini, dai! Dai con questi mutantini del libro! Ehi, allargati, mano nella mano! Ehi, fanno fredda, fanno fredda! Non fa la femminuccia! Dai! Ehi, vi dovete tirare tutti dietro! Dai! Dietro, 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 allarghiamoci, muovono la mano tutti quanti, e, dovete allargare, quando fischio ci buttiamo tutti in mezzo all'acqua, dovete allargare anche di qua, e al prossimo fischio tutti fuori, chi è che non sa nuotare? 1, 2, 3, allora voi 3 qua, e quindi ci tocca, allora ci buttiamo, chi non sa nuotare muove subito i piedi e si attacca qui, e basta, se un metro e venti eh, andiamo, pronti? Oh, ah, dai, non smilio! Andiamo entrando, dietro, buttati in mezzo! Buttati dal sopporto. No, 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 no. allora facciamo una gara di nuoto e poi andiamo via tutti su chi vuole farla si mette di là e metti di dentro allora ti devi fare un tuffo con la paura di andare sotto il cuore con la testa stai a fare dopo vuoi giocare a pallo? vuoi bene chi vuole fare la gara? io non ho la mia io non ho la mia io non ho la mia io tutti io non ho la mia io non ho la mia altrimenti stai a fare una paura non ho la mia guardate io non ho la mia io riesco a fare paura ecco 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 Grazie!